Ciao a tutti e ben ritrovati su Ablemos de Calcio. Nel video di oggi vi parlo di uno dei giovani più interessanti che ha ad offrire il calcio sloveno. Sto parlando di Benjamin Cesko, attaccante classe 2003 del Red Bull Lipsia che prima di approdare in Germania ha transitato per l'altra Bundesliga, quella austriaca, naturalmente a Salzburg, dunque sempre sotto l'ala della Red Bull. Un percorso che per certi versi ricorda quello di Haaland che proprio nel Salzburg si mise in mostra per poi trasferirsi al Borussia Dortmund. Ma i paragoni finiscono qui, non vorrei che qualcuno pensasse che parliamo di due calciatori simili. Per conoscere le skills di Benjamin Cesko ed ammirare qualcuno dei suoi gol, continuate a vedere il video. Nel frattempo vi invito a iscrivervi al canale e ad esprimere il vostro eventuale gradimento con un like. Di Cesko si è cominciato a parlare come di un calciatore interessante da quest'anno e non dall'inizio, sebbene alla seconda partita di campionato contro l'Union Berlin segnò due gol in circa un quarto d'ora e questo è un bel biglietto da visita. Tuttavia lo slovene è arrivato all'Ipsia fondamentalmente per fare la riserva di Forsen, altro giocatore che supera il metro e novanta e decisamente più esperto ma meno prolifico sottoporta. Chi invece è sempre sicuro del suo posto nell'Ipsia è Openda che non ha pagato lo scotto del passaggio dalla Liganna alla Bundesliga, ma siamo qui per parlare di Cesko quindi concentriamoci su di lui. E' un attaccante che ha saputo conquistarsi una maglia da titolare a sonni gol e prestazioni convincendo Marco Rosa a dargli sempre più spazio. Credo che dopo l'infortunio di Forsen Marco Rosa si sarà convinto a schierare il titolare Cesko fino alla fine del torneo. E attenzione perché nel momento in cui vi parlo, da inizio aprile, quando Forsen si è infortunato, ad oggi, prima settimana di maggio, si è scontato in gol per 5 partite consecutive in campionato. Insomma nel giro di un mese il valore di mercato dell'attaccante si è incrementato parecchio. Siccome parliamo di un attaccante di quasi 2 metri, si può credere che sia il classico calciatore sgraziato, buono solo per spizzare la palla di testa, insomma un giuric qualsiasi. No, Cesko sicuramente non avrà la tecnica di Ronaldinho, chi per esso, ma ha piedi buoni e destro. Chiaramente il colpo di testa è il suo pezzo forte, ma state certi che ha piedi per giocare la palla a terra. Ciò significa che offre più soluzioni e questo è innegabilmente un vantaggio. Si abbassa quando serve, non è il classico palo di 195 cm che resta piantato in avanti. Difende bene il pallone, ma soprattutto ha ben interiorizzato i movimenti dell'attaccante e capisce quando deve attaccare il primo palo e quando il secondo. Inoltre sa liberarsi dalla marcatura dei centrali. Un altro paio di cose da aggiungere nella nazionale guidata da Keck è un titolare. Tanto nella nazionale quanto nell'Ipsi gioca in un 4-4-2, ma per caratteristiche può sicuramente inserirsi come punta centrale in 4-2-3-1 e ovviamente nel 4-3-3. Il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate di Cesco, sfruttate la sezione commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo la prossima volta.